ciao e benvenuti oggi ho estratto la carta dello spirito della falena un oracolo per cui voglio darti un messaggio che potrebbe esserti utile per questa giornata o per questo periodo della tua vita lo spirito della falena ti dice arrenditi ti sta dicendo che cosa ti sta guidando in questo momento ecco che cosa vuole sapere lo spirito della falena senti e sei in sintonia con lo spirito oppure la tenacia con la quale ti stai impegnando per ottenere un risultato o conquistare una persona si è trasformata in ossessione o dipendenza sei così intossicato da una relazione o da un po' una potenziale opportunità da non riuscire più a pensare in modo razionale il duro lavoro e l'impegno sono virtù e l'amore ovviamente è una cosa bellissima tuttavia quando appare lo spirito della falena è il momento di considerare se sei andato oltre in questa ricerca in incessante il tuo vizio attuale potrebbe essere l'alcolismo la bulimia il perfezionismo la necessità di avere delle certezze o persino la dipendenza da una persona la forma della tua dipendenza non ha tanto importanza quanto la consapevolezza che delle conseguenze se continuerai a insistere quando invece ti viene richiesta moderazione incanala la tua energia eccessiva verso più direzioni il fuoco brucia e tu non vuoi essere sopraffatto della tua passione a scapito di tutti gli altri obiettivi che ti stanno a cuore questo è il momento della resa e dell'accettazione radicale di modo che la tua pulsione non ti porti a fuggire o a combattere lo spirito vuole che rinunci al bisogno di certezze e di controllo affinché tu possa usare l'energia dello spirito della falena in modo più equilibrato dimentica i dovrei e i devo per riuscire ad assoporare ciò che c'è spero che queste parole siano utili per te oggi o comunque in qualsiasi momento le ascolterai e ci vediamo presto con un altro oracolo